Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video aggiornamento di Cobalt A pochi giorni dal rilascio dell'ultima versione, la 121α, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, la 122ABC per poter correggere alcuni bug anche piuttosto gravi presenti nella 121 oltre al fatto che hanno sfruttato questa occasione per poter modificare alcune cose già presenti nel gioco come la regolazione dell'intelligenza artificiale dei personaggi ed altre piccole cose oltre ai bug fix c'è stato anche il rilascio di questa versione in B e C che comprendono sempre bug fix ed altre aggiunte poco rilevanti e in più questa versione ha anche il problema che non può essere aggiornata tramite Switch Teru ma bisogna scaricare il setup dal sito ufficiale onestamente questo aggiornamento non comprendendo grandi cambiamenti e solo bug fix non ritengo necessario mostrare un'anteprima dei cambiamenti del gioco anche perchè non ci sarebbero, sono solo bug corretti e direi che il video finisce qui è un po' breve ma per completezza ci teneva a mostrare questa versione quindi vi ringrazio per aver avviso il video e ci vediamo al prossimo ciao